ciao buongiorno ciao danni hai seguito le letture precedenti avevamo lasciato la signora sporcelli tutta legata con i piedi a terra dei palloncini sopra la testa vediamo se ancora lì o se volata via la signora sporcelli sale in pallone questi palloni tirano così forte che mi porterebbero sulla luna gridò la signora sporcelli portarti sulla luna esclamò il signor sporcelli che idea terribile guai se accadesse una cosa simile guai l'hai detto strepito lei dammi qualche altro giro di spago attorno alle caviglie presto voglio sentirmi sicura al cento per cento molto bene angelo mio disse il signor sporcelli e con un ghigno demoniaco si inginocchiò ai suoi piedi tiro fuori di tasca un coltello e con un rapido colpo tagliò le corde che legavano le caviglie della signora sporcelli all'anello di ferro lei partì come un razzo aiuto urlò salvami ma ormai era troppo tardi di lì a pochi secondi era su nel cielo azzurro e continuava a salire velocemente il signor sporcelli se ne stava con il naso per aria che deliziosa visuale disse tra sé quanti bei palloncini lassù nel cielo e che straordinario colpo di fortuna per me finalmente la vecchia befana si è levata dai piedi e non la rivedrò mai più la signora sporcelli scende in pallone la signora sporcelli poteva anche essere brutta e odiosa ma non era stupida lassù nel cielo ebbe un'idea geniale se riesco a liberarmi di qualche pallone si disse smetterò di salire e comincerò a scendere si mise a strappare con i denti le corticelle che le assicuravano i palloni ai polsi alle braccia al collo e ai capelli ogni volta che tagliava uno spago coi denti e lasciava volar via il pallone la spinta verso l'alto diminuiva e la velocità di salita rallentava quando ebbe tagliato 20 spaghi smise di salire del tutto rimase ferma in aria strappò un altro spago molto molto lentamente cominciò a fluttuare verso il basso era una giornata calma senza neanche un filo di vento proprio per questo la signora sporcelli era salita dritta come un fuso e adesso comincia a scendere dritta come un fuso mentre fluttuava dolcemente verso il basso la sottoveste le si gonfiò come un paracadute mettendo in mostra i suoi lunghi mutandoni era uno spettacolo imprevisto in quella bella giornata e migliaia di uccelli arrivarono da ogni parte per ammirare quella nuova specie di volatile il signor sporcelli sotto sciocca il signor sporcelli convinto di aver visto la sua odiata metà per l'ultima volta se ne stava seduto in giardino a far festa con un boccale di birra intanto la signora sporcelli continuava a planare silenziosamente quando fu a una decina di metri sopra il marito gridò con quanto fiato aveva in gola eccomi arrivo sporco vecchio pidocchioso arrivo il signor sporcelli salto su come se fosse stato punto da una vespa gigante la birra gli cadde di mano guardò in su sbarrò gli occhi spalancò la bocca soffocò un grido suoni gorgogliani gli uscirono dalla strozza questa me la pagherai gridò la signora sporcelli stava per atterrargli proprio in testa era rossa di rabbia e menava fendenti nell'aria con il suo lungo bastone da passeggio che in qualche modo era riuscita a tenersi stretto durante tutti quei suoi su e giù ti frollo il midollo ti buco la nuca ti rapo la crapa ti infilzo la milza e prima che il signor sporcelli facesse in tempo a scappare quel groviglio di palloni sottovesti e di furia scatenata gli piombò addosso roteando il bastone e menando colpi all'impazzata la casa l'albero e la gabbia delle scimmie vediamo come ne sono usciti da questa situazione ma basta con queste storie non si può continuare in eterno a seguire le porcellate che si fanno l'un l'altro due porcelli continuiamo con la nostra storia adesso guardate un po la casa e il giardino del signor sporcelli che casa sembra una prigione e neanche l'ombra di una finestra chi ne vuole le finestre aveva detto il signor sporcelli quando la stavano costruendo solo perché un guardone qualsiasi si levi lo sfizio di vedere cosa stai facendo non gli passava neanche per la mente al signor sporcelli che le finestre sono fatte principalmente per guardar fuori non per guardarci dentro e che cosa ve ne pare di quell'orrendo giardino la giardiniera era la signora sporcelli bravissima a far crescere cardi e ortiche bisogna non essere mai a corto di cardi spinosi e di ortiche urticanti diceva sempre tengono lontani bambini rompiscatolo e ficcanaso vicino alla casa potete vedere il capanno da lavoro del signor sporcelli l'albero che vedete alla vostra destra è il grande albero morto non ha mai foglie perché è morto non lontano dall'albero potete vedere la gabbia delle scimmie dentro ci sono quattro scimmie appartengono al signor sporcelli sentirete parlare di loro più avanti la colla non ti molla una volta alla settimana il mercoledì i signori sporcelli mangiavano pasticcio di uccellini per cena il signor sporcelli li acchiappava e la moglie li cucinava lui era bravissimo ad acchiappare gli uccelli il giorno prima del mercoledì del pasticcio appoggiava una lunga scala pioli contro il grande albero morto e si arrampicava tra i rami con un secchio di colla e un grosso pennello la colla che usava era del tipo non ti molla la più appiccicosa che ci fosse in tutto il mondo la spalmava lungo la parte superiore di tutti i rami e poi se ne andava al calare del sole arrivavano dagli intorni centinaia di uccelli per passare la notte appollaiati sul grande albero morto non sapevano poverini che i rami erano tutti cosparsi di quell'orribile colla non ti molla nell'istante in cui si posavano sul ramo le zampette rimanevano incollate e per loro era finita in domani mattina il giorno del pasticcio di uccelli il signor sporcelli saliva di nuovo la scala e con le sue manacce afferrava tutti i poveri uccelli rimasti appiccicati all'albero non importava di che razza fossero tordelle merli passeri corvi scriccioli petti rossi capiniere qualsiasi cosa finivano tutti nella pentola per il pasticcio di uccellini del mercoledì che poi mi sa che non è neanche tanto buono vabbè si sa che il signor sporcelli e la signora sporcelli sono un po strani buon pomeriggio e alla prossima lettura ciao ciao